Natale col BOS, siamo in compagnia del BOS e dei chirurghi che in qualche modo tentano di cambiare i connotati in questa clinica specializzata dove pare che renda bene economicamente questo mestiere. Che dici Greg? Eh sì, effettivamente rende perché noi infatti abbiamo una clinica specializzata nel cuore di Milano e siamo abituati alla Milano Bene quindi con tutti gli agi che un tipo di vita può portare. Veniamo torto collo però presi dalla malavita organizzata perché il BOS che è stato fotografato deve cambiarsi i connotati e ci chiede, dato che deve cambiare, di farlo somigliare il più possibile a Di Caprio soltanto che nella maniera partenopea la finale è un po' omessa, quindi Di Caprio e noi capiamo Di Capri, lo trasformiamo in peppino Di Capri ma tra l'altro benissimo, quindi siamo due bravi chirurghi, perché tale e quale. Talmente bravi che anche il BOS diventa così. Ma era già così. Tenga una faccia da BOS, scusate. No, no, assolutamente no. Ci incuriosiva questo tuo, intanto c'è un disco che suggella in questo momento anche il tuo percorso musicale che è concomitante, si è intrufolato sul set. Parliamole di questo disco. No, è un disco di una canzone che si chiama Le canzoni d'amore. È la mia volta che si ci mente in canzoni d'amore poi. È certo. Anche qui mi sto sperimentando. E niente, poi ci sono dieci canzoni famose della mia carriera, però la canzone è importante, molto bella. Parliamo del film che se no Aurelio si incacchia. No, volevo dire, niente, questa avventura fantastica di questi due, i chirurghi. Chirurghi. I chirurghi. Perché in un certo chi è che vi chiama chirurgi? No, ma Francesco di Leva, Fefe. Nel film ci chiamano i chirurgi. E niente, c'è questa trasformazione che poi si tira dietro tutta una bella fetta della trama del film, con l'inseguimento di questi due che mi hanno sbagliato, anziché Di Capri o capiscono Di Capri. Quindi, stavolta l'ho detto bene. Sì, sì. Perché a Napoli la O praticamente è quasi irrivedibile. Perché quando chiedi a un milanese, lo sai come si diceva O in Napoletà? No, non lo so. Si dice E. Per cui Di Capri, è quello di Capri per loro. E quindi, insomma, succede tutto sto casino. Allora, Lillo, tu hai approfittato della tua, diciamo, nota bellezza per poterti dare qualche ritocco in occasione di questo film. No, questo film non c'è mai un momento in cui alludo alla mia bellezza. No, 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 questo non faccio solo un ruolo comico, un ruolo divertente. Però, ugualmente, è... No, per me la nascondo, però non... Non la ostento, non la ostento, diciamo così, perché... Anche perché veramente noi da quasi all'inizio del film, in poi, non facciamo altro che scappare. Per tutto il film scappare e andiamo a finire in ambienti non adatti a noi assolutamente. Quindi, automaticamente, si creano delle gaghe divertenti. Tipo, c'è un momento nel carcere che fa molto ridere. Bene. È stata l'occasione anche di, quindi, mantenersi un po' in forma, no? Se avete corso durante tutto il film. Eh sì, certo, ma noi dobbiamo... No, che poi, come gli attori americani, noi tra un film e l'altro ingrassiamo smodatamente, poi ci rimettiamo in forma per i film. No, questa cosa che facciamo io e Greg, ma, a volte, lo facciamo anche insieme così. Noi tutti i giorni, dalle 5 alle 6 di mattina, facciamo footing. Poi ginnastica a casa, sul tappetino dalle 6 alle 7, colazione e poi... ...il fango, tra noi però. Allora, al Boss, l'invito rivolto ai nostri telespettatori di venire al cinema, dal 16 dicembre in poi, a vedere questa opera straordinaria, fatta di risate e fatta di gag, insomma. Lo posso fare con la voce normale, perché così mi fa male a voi. Volevo fare tanti auguri di buone feste a tutti e ci vediamo a Natale col Boss. Saremo anche noi mimetizzati fra di voi per vedere se vi è piaciuto. 16 dicembre, 1, 2, 3, Natale col Boss! Sì, cominciamo alla festa!